buonasera con il pietro di l'appuntamento che abbiamo organizzato la nuova relazione del ministro di udina per se la stessa ivana bassi che dovresta vicino e abbiamo un quattro cinque persone tre persone anche da remoto che ci seguono tra le quali anche la vicepresidente buonasera ci sono alcune facce nuove rispetto a questo è il modo positivo comunque insomma almeno io conosco tutti no e quello che posso dire che comunque sono tutte persone che sono in un modo dell'altro hanno collaborato con l'associazione mondiale a questo tipo di progetto e a questo tipo di progetto e quindi insomma vivendo la presenza vediamo di insomma di prima di quello che è subito le mani rispetto a quello che abbiamo d'attività che abbiamo suor con il predio di discorso e poi insomma con delle esperienze diciamo lavoratoriale dove invece insomma cercheremo di ehm se prima la prima volta che ci sei dato appunto un'indagine di statistica in febbraio in gradimento insomma adesso cerchiamo di andare ad analizzare quelle che sono le criticità che insomma possiamo ovviarci di risolvere nel prossimo che dobbiamo fare a tenere Pronti a tenere via? Prego Imana Allora eh avete ricevuto il materiale eh materiale che voi avete messo attenzialmente tutta fatica Perché io Colonna per colonna Eh quindi che materiale quindi è stato inviato eh la presenza della volta precedente integrata con eh commenti che sono emersi le principali osservazioni Sia relativamente alla prima parte quando la collega eh l'autoressimo di Fiori Ucchia ha presentato i risultati dei primi risultati dell'indagine che sta ancora portando avanti su quelle che è di grado di soddisfazione verso l'asco ma anche su altre pianali quindi il rapporto dell'asco con l'articoltura, con la montagna e con l'attività di questi e quindi appunto nel materiale che vi è stato inviato c'è il suo lavoro c'è anche i commenti tutti i vostri commenti Di la seconda parte dell'incontro scorso dell'incontro scorso abbiamo un po' eh presentato il lavoro che avremmo a fare in questo mese che ho fatto un lavoro di revisione della strategia che era stata scritta nel 2021 e a questo proposito è stata inviata anche l'analisi SWOT che abbiamo realizzato al suo delenco l'analisi SWOT che tiene quindi analisi diciamo delle criticità, dei valori, dei alleviamenti negativi e possibili ecco sia su aspetti comuni sia su alcuni aspetti specifici che riguardano tratti e pascoli che riguardano i castanieri, che riguardano i posti e poi altri aspetti che riguardano invece proprio la gestione interna all'organizzazione e anche qui abbiamo, siamo cominciati a raccogliere le prime informazioni quelle che sono secondo voi, no, dati gli obiettivi che abbiamo individuato qualche anno fa se sono ancora validi con le loro priorità, ci sono anche dei cambiamenti e poi li vediamo anche nella nuova presentazione ecco il lavoro che faremo oggi, i lavori che faremo oggi, oggi lavorano quindi meno chiacchiere nostre, meno chiacchiere nostre ma una condivisione di aspetti e riflessioni che riguardano che cosa? come indicato dalla buca nella mail, oggi andremo a, diciamo, a rivedere, però, a rivedere con le modalità che ci siamo buonasera, andiamo a rivedere l'analisi di contesto, permetteteci di utilizzare un po' di terminologia tecnica l'analisi di contesto e in particolare quello che vorremmo, che dobbiamo farlo con voi, che conoscete meglio di noi andare a mettere in evidenza, a mettere in evidenza quelli che sono i problemi più importanti quelli che vengono chiamate criticità, che poi, insomma, cercheremo di, a cui cercheremo di trovare delle soluzioni con delle attività da scogliere da qui al prossimo, sempre del prossimo triunfo, questi 4, oggi sono io direi di iniziare di iniziare e abbiamo individuato, ma o meglio a volte avevamo a suo tempo individuato due macro aree Che riguardano la prima la gestione di prampini, pascoli, castagnetti, il bosco, quindi diciamo quello che riguarda le attività dell'asco sul territorio. Un'altra manuale riguarda invece l'asco al suo interno, quindi stai di gestione, di organizzazione al problema e gestione dell'associazione. Allora, nell'ambito di queste due manuale, il lavoro che vorremmo fare stasera con voi, con voi, scriviamo, noi raccogliamo, noi cerchiamo di organizzare, cerchiamo di capire quali sono i problemi più importanti, quelli che l'asco deve affrontare e risolvere da qui. Quindi 24, 25 e 26. Io comincerei, no, cominciando a poi un po' di riflessioni, con riferimento alla prima macroarea, gestione di tratti, pascoli, castagnetti e boschi, pensando anche a delle sottuare, delle sottuare, per iniziare, insomma, a ragionare. Perché ci saranno problemi comuni a tutti, cioè problemi che riguardano tratti, pascoli, castagnetti e boschi. Ci sono invece problemi specifici, ci saranno, ci potranno essere problemi specifici che riguardano soli tratti, soli pascoli, soli castagnetti, solamente soli sottuare. Possiamo anche andare a caso, dobbiamo necessariamente seguire un ordine, il compito nostro sarà quello di riordinare le tante informazioni che raccogliamo stasera. Un'altra notte organizzativa, anche alla luce di alcuni riscontri, una volta precedente, ci diamo delle tempistiche, no? Cioè, o la bellezza, o la bellezza, più o meno, l'amore e qualcosa, ecco. Cioè, cerchiamo di lavorare al meglio, anche se non sono ore queste di lavoro, ma cerchiamo di utilizzare al meglio quest'ora, bellezza, più o meno, qualcosa di meno, questo è un po' già passato, per cercare di portare a casa informazioni su entrambi, su tutti questi aspetti, su tutti questi aspetti. Non sentitevi particolarmente, non sentiamoci particolarmente vincolati da quello che c'è scritto, diciamo, veramente, il compito nostro è anche ordinare, no? Mi sento di aggiungere l'unica cosa. Aggiungi in qualunque momento. Non avere paura di dire le cose scondate. Perché guardate che le cose scondate poi sono quelle che alla fine, ah, chissà, però questa qua la devo dire, la devo fare, la devo pensare. Insomma, è piuttosto essenziale, no? È inutile pensare ai massimi sistemi quando invesse sono riusciato, diciamo, ad apprendere i problemi della quotidianità che si può garantiscono, con l'operatività che riesce a stare. Anche perché forse il contatto ha per qualcuno, magari è un po' di grande precedente. Esatto. Allora, questo è un dato di quello che era, per esempio, una buona parte precedente, tanto per entrare, un buon lavoro con il ghiaccio, no? Eh, ecco, erano cambiate un po' l'ordine di priorità, soprattutto per quanto riguarda il discorso in cessione, frati, pascoli, castagnetoli, bosco, no? Quindi la certificazione della qualità del legnale, ad esempio, era molto importante rispetto all'alte tempi. Però adesso proviamo a pensare alla lavagna bianca. Saranno molto, no, se lo vuoi vedere, quanto era stato il contempo, rispetto all'oggi. Quindi la lavagna bianca. Vai? La lavagna bianca. Un'altra cosa che non mi ha detto. Quindi la lavagna bianca per cominciare a pensare proprio, no? Quali sono, cioè, che cosa deve fare? Lasco, che problemi deve affrontare? Sì, diciamo, no, non fu. L'ora, non fu dopo la fine. No, no, ti lascia parlare, non conosco Luca. Ecco, visto che ha già rotto il ghiaccio. Che problema deve affrontare Lasco? In relazione, in relazione al discorso, verso l'esterno. Sono da nuovo. Insomma, tu sei anche uno che non c'è. Mezzo. Sì, che sono da nuovo e magari è un delle problematiche che magari sono personali rispetto alla... Ma siamo qui per accoglierle tutte. Come ha detto Luca poco fa. Anche le cose personali, ovviamente, indiamoci, personali fino a un certo punto, ma ci siamo qui, ecco. No, 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 no. Allora, abbiamo visto così, io ho gestito un rafforcio, quindi adesso per me è difficile lavorare da solari, no? Perciò io sarei come l'idea di uno sviluppo che può essere stile e cooperativa, nel senso alcuni soci si mettono insieme e gestiscono le cose. Quindi il problema è che... E' mio personale, perché poi l'uno ha i suoi sistemi, perché poi qualcuno magari ha un sistema di lavorazione. Io risicondo che per quanto riguarda la gestione... Quindi la difficoltà a gestire da solo singolarmente la gestione dei boschi, quindi tutti i lavori che fanno. Sì, sì, voglio un prato di... Sì, però magari io penso anche se uno lavora nel posto eccetera eccetera, magari... Sì, questa è una mia... Sì, e poi un altro individuare appunto gli elementi da mettere anche nel terreno dove c'è un cavallino, che è una linea, però magari potrebbero andare bene, un paio di peccati. Però poi dipende a quale... A quale... Sì, come entità quale... Sì, ci sono tanti problemi anche nel senso che magari gestire 5 peccolo, 10 peccolo, 50 peccolo cambiano nel posto. Quindi difficoltà a conoscere qual è la modalità di gestione più appropriata? Per me sì. Per me sì. Allora, lui è socio dell'alto e come sono ragazzi i soci, ha un contratto d'appitto per il mantenimento di alcune particelle che sono state... in appitto, quindi lui dice che da solo quel contratto lì ho difficoltà a rispettarlo e a ripetirlo e a ripetirlo e a ripetirne le spetticità. Ma allora per la mia domanda, perché voglio se... C'è qualcun altro che può fare questo lavoro? Oppure no? C'è... Forse sì, potrebbe parlarsi per i soci o fare... Sì, non so, io lo faccio solo come lei, anche... Questa io mi sto... Cioè, io la vedrei... Sì, è una bella cosa. Però, dopo bisogna vedere come sarà come un piccolo... Cioè, della gente si mette sempre su un stile cooperativo, no? Dove le persone si riescono e gestiscono... E perché non si riesce a fare un qualcosa di stile cooperativo? Magari anche qualcun altro? Magari non c'è... Non c'è interesse... Non c'è interesse... Ci sono le... Lei è presa... Scusi se mi faccio domande io banali, ma io non faccio il senso. Ma io faccio da solo, pensavo... Sì, da solo come presuntati che fanno da soli. Ci fanno tanti momenti che... Forse non siamo... Almeno io, ma sono anche attivato a... A organizzare, lavorare... Ci fanno dire... Perché era parte di gestione familiare... Che avevamo avuto qui... Per un altro discorso... Qualcione familiare... Oppure un'investione... Che riguarda anche le altre gente... Ma... Così... Sì... Facendo... Sì... Io vado... Da solo... Faccio le mie riflessioni... Così... Porto queste mie riflessioni... Che mi sono venute a cuore... Ma non sono anche... Come... Faccio altre persone... Che possono fare il suo lavoro... Oppure... In persone... Arriende... Che possono fare il suo lavoro... Mi migliora... Penso che sì... Però... Sì... Come... Sì... Sempre di meglio... Se siamo in pochi... Purtroppo... La popolazione... È un'issima età... Posponiziana... Secondo me... L'aspetto... Deve andare... A cercare... A cercare... A cercare di portare vicino... Qualche... Qualche azienda... Che... Io ho una mano... In questo senso... Ok... Quindi... Con lo scopo di... La forma... Che abbiamo... In un nuovo... Dove sarà possibile... Diciamo che c'è... 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 Il problema... Di dimensioni... Adeguate... Ma... È solo una questione... Di dimensioni aziendale... O anche di... Numero di aziende... O... Di soggetti private... Ma io direi... In questo momento... Di dimensioni aziendale... Quindi... Di capacità... Sì... Sì... Perché lei... No... È un privato... Sì... Con cui ha potuto stipulare il contratto... Quindi... Dimensiona... Nella realtà... O singola... O a scuola... Di tipo imprenditoriale... Che non è adeguata... A garantire... No... Cioè... Il mantenimento di... In questo caso... Ad esempio... C'è... Lui... Lo fa... A titolo personale... No... Sì... Quindi... Non è... Ma viene neanche... Sì... Ma... Diciamo... C'è... C'è... Lui viene da... C'è... 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 C'è la carenza di questo... Ovviamente... Per lui... Eh... Con le pecore... Non riesce a... A gestire... Più di vita... No... Che non abbiamo... Sì... Quindi... Sfalcio... Sfalcio le fa... C'è... Sfalcio... Pecore... Sfalcio... Pe... Pecore... Solo lei... Lì... Ok... È venente... Qua... La... È un... È un... Finanza... Ma... È quello che fa la vita... È anche... Dalla... Dalla... Ma... Se posso collegarmi... A un senso... Dato... Manca... Mano d'oltre... Manca... Siano... Persone... Fisiche... Sia... Manca... Manca... La gente... E... Però... Questa mancanza... Può essere... Benissimo... Soltta... Dall'ASFO... Perchè... L'ASFO... Da... Dei soldi... Per... Pulire... Se... Uno... Non ci riesce... Intanto... Si prende meno... Ma... L'ASFO... Può sempre... Avvalerci... Una ditta... Esterna... Che fa... Il lavoro... Invece... Di dare... Quei soldi... A chi si è preso... L'impegno... Per quel lavoro... Che ha fatto... Il resto... Paga... Questa ditta... Vengono qua... In quattro... In quattro... In quattro... In quattro... In quattro... In quattro... E poi... I soldi... I terreni... Vengono comunque... Puliti... In questo modo... Cioè... Le manodobano... In quattro... In quattro... Si fai... I lavori... Non è ideale... Perché sarebbe bene... Che la gente... Lo gana... Facesse... Però... Essere... Anzi... Si può fare così... Perché... L'ultima... Poi... L'ha detto... Lui... Di fare... Una cooperativa... I lavori... Non possiamo... Lì... È delicata... Perché... Noi... Non abbiamo... Una cooperativa... Cioè... Perché... Uno lavora di più... Quell'altro lavora di meno... Non pegue... Non so... Che siamo... Maturi... Di fare... Una cooperativa... Di gestione... Comune... Sarebbe molto utile... Comunque... Sarebbe... L'ideale... Perché... Per esempio... Per gestire... Un greggio di pecore... Sono io da soli... Quattro anni... Ogni giorno... Io sono stato disponibile per te... Se mi veniva... Covid... Cosa facevo? Se mi viene... Una esperienza... Che ho un 40 di febbre... Le febbre... Non stanno mica fermo a dire... Le trovi... Ci mi dà la piatta... Dopo due giorni... Cioè... Fanno confusione... Vanno fuori dei recinti... Ci vuole qualcuno... Che sostituisca... Anche perché... Oggi... Abbiamo tutti... La necessità di andare... Di tempi... Personali... Di ferie... Che per me... Non esistono... Però... Se volessi andare a ferie... Con la mia famiglia... Una settimana... Io non lo posso fare... Perché... Non c'è un sostituto... Che sappia... Che mi sappia... Che mi sappia... Gestire i cani... Con le pecore... Saper fare il precinto... Cioè... Se ti fosse una cooperativa... A due o tre... Che... Che sapesse... Il problema... Di garantire... La continualità... Rispetto... La continualità... La continualità... Perché uno può essere... Sotto ogni giorno... Ma... Ma... E a livello... O di comune... O comunque di... Cioè... Cominciamo dal comune... Ma proprio piano... Ce l'abbiamo... Ma sempre partito... Dal centro comune... Non ci sono altri soggetti... Cioè... Sì... Rivolgersi all'esterno... Ma questo esterno... Che sia... Gente... Più o meno... Ci sono realtà... 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 Studia... E a scuola... Beh... C'era anche lui... La prossima parte... Tu... Chiudiamo... E non te ne vai? Per chiedere... E di andartene... Di non rimanere qua... Difficile... Difficile... Quindi è inutile investire sul tema... No... Scherzo... Ho fatto una grande... Ho fatto una grande... Ho lavorato con lui... Il weekend... L'estate... Lavoro sempre con lui... Da qua e là... Andare dove... Posso permettermi... Da un pochino... Io non lo so... Un cerimano... O... Quindi c'è mancanza... Mancanza... Di fatto di mano d'opera... Mano d'opera strutturata... Che sia... O a livello di singolo... O a livello di azienda... E mancanza... Anche di credere... Di magari... Di aggregarsi... In proprio forma... O sempre operativa... Ma... Di quello che ho capito io... Cioè... I terreni da pulire... Sono tanti... Ma... Le stanno... Superfili... Per le aziende che hanno... Machinari... Pasquolo... Ce ne sono pochi... Con pochi... Cioè... Pochi capi... Cioè... Se arriva... A pulire... Lui non riesce a pulire... Con 150 pecore... Anche se fossero... In tutto il potone... 300... Allora... Io mi chiedo... Io ho visto... In... In Carnia... Che arrivano... Dei... Dei... Pastori... Da... Anche fuori... Da Trentino... Che Pasquano... Arrivano con grazie... Da mille pecore... Che... In poco tempo... Ti puliscono... Si può dire... A tutto il comune... Se vuole... Quindi... Ci si può anche... A valere... Di soggetti esterni... Per... Dandogli... Chiaramente... Dei contributi... Per il spostamento... Delle... Delle... Bestiame... Eccetera... Per superire... Questa apparenza... Appunto... Di... Di animali... Per poter pulire... Tutte le superfici... Che... Sono... Diciamo... Della... E poi... Se queste superfici... Aumentano... Con gli anni... Se altri... Soggetti... Si interessano... A questo progetto... Eh... Non riesci a star dietro... Perché... Sappiamo... Com'è la vegetazione... Più... Eh... Questi sono zone... Abbastanza... Di montagna... Sono zone... Abbastanza... Piovose... E quindi... L'erba... Qua... In pianura... A cresse... Poi... Col bosco... Vicino... Quindi... Io... Proporrei... Di... Invitare... Appunto... Dele... Dei pastori... Da fuori... Ma non da sé... Se poi qua... Nascerà un po' il tempo... Delle realtà... Più... Più... Consistenti... Non ci sarà... Il problema di gestione... Di gestione... Dei terreni... Dei terreni... Dopo sulle soluzioni... Vediamo... Perché... In maniera provocatoria... Lo dico... Anche alla mese... I greci piuttosto numerosi... Portano... Un certo beneficio... Certo... Dobbiamo andare a considerare... Anche... I danni... Che... Certo... Ci sono... E... In maniera... Molto attenta... Perché... Siamo... Che... Te la porteranno... Ma... Forse... L'interessante... Anche... Il grande... Durismo... Nel periodo... Del... Del... Pasco... No... Di fare... Dei corsi... O qualcosa... Di similare... Di... 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 Ma... E questo risponderebbe... A che bisogno... Cioè... Qual è il problema... Ci sono turisti... Vogliamo turisti... No... Che... Avicini... Delle persone... A conoscere... Appunto... Degli aspetti... Dell'agricoltura... A gente... Che lavora... Con le pecore... Che si deve appoggiare... Ad altri... Pagare... Per fare... La posatura... Potremmo imparare a farlo... Se qualcuno glielo insegna... Quindi... Ok... Quindi c'è la mancanza... Di conoscenza... Si... Ok... In certi paesi... Farò delle dimostrazioni pubbliche... Sono delle festigiole di paese... Che attirano molte persone... Conoscere il territorio... Conoscere... Una problematica... Un percorso... Delle curiosità... Delle chicche... Facciamo così... Che tutto aiuta... Ma non aiuta solo... Per... Per chi... È del settore... Che allena le pecore... O deve gestire le pecore... Aiuta... I ragazzi... Che vengono a vedere... Imparare... I bambini... Le famiglie... La gente... Comune... Che vede i paesi... La realtà... Cioè... C'è tutto un parolario... Di cose... Che bisogna fare... Non solo... Pensare... A pulire i terreni... Perché se no... Ci parliamo lì... In un occhio sud... E c'è studiatore... E... Insomma... Quindi... Lo scopo... Cioè... Per quale motivo... Tutto questi... Non solo per... Appunto... Migliorare la gestione... I terreni... Ma anche per attirare persone... Perché ci sono... Eh... Perché si è poco... Conosciuto il territorio... Ha... Conosciuto il territorio... Ha... Conosciuta... La realtà... La vita di montagna... Con le persone problemate... È poco conosciuto dal punto di vista della... Quindi... Ne vogliamo fare in modo che più persone... Conoscano... Ma perché? Per trovare... Forza lavoro... Per la gestione dei terreni... Nei... Dei luoghi... Nei paesaggi... Nel Sacra World... Sì... Ok... Altri problemi... Che se vogliamo... Poi... Lì... Ho visto... Ci sono incastamenti... Sì... Volevo andare... Su alcuni temi specifici... Oltre... Nel paese... Ci sono vari attenzamenti... Combinati... Uno con l'altro... I castagnetti... Erano... Tutti rivolti... Verso il mondo... Sono più umidati... Perché il castagno... Bisogna... Ehm... Quindi... Lì... Il discorso... Qual è? Se io pulisco... Solo il mio... Mezzo retto... Il mio retto... Il castagnetto... Il mio castagnetto... Sarà... Comunque... Soppoccato... Da... I castagnetti... Prosperavano... Perché... Ognuno... I vari confinanti... Si parla di... Decine... Decine... No... Lavoravano... Ognuno... Il suo castagnetto... Quindi c'era... Un microclima... Di aria... Di luce... Sufficiente... Per far prosperare... Queste piante... Adesso... Quella succede... Attualmente... Non c'è... Innanzitutto... Ci sono tante piante... Che sono ormai... Eh... Saravigate... Perché... Terreniasco... Parliamo di... Lavorasco... Sì... Anche... Tutti... I terreni... Eh... I terreni... Non si allargeranno mai... Quindi... Di fatto... Non c'è la gestione... Del castagnetto... Sia dell'Aspos... Sia... Di Mitropo... Che fa danneggiare... Quindi... L'Aspos... Vogliamo dire... Ma anche... Non si riesce... Ad ampliare... L'Aspos... Non si... Diciamo così... Andifica... Questo discorso... Ad altri... Possibili... Eh... Soggetti... Che hanno dei terreni... E non sanno come fare... No? Per migliorare... La loro situazione... Che il discorso... Delle aree... Di cui si parlava... Certo... Cosa facciamo... Conviene... Non conviene... Cioè... Fin quando... Si resta... All'interno... L'Aspos... Non si... Ci si... Può... Espandere fuori... Per esempio... Faccio un esempio... Se tu non vai... In un paese... Non dico... Fare una riunione... A livello... Di comune... Entri in un paese... Chiami... Inviti... Tutta l'area... Le persone... In una casa... Cominci a parlare... A dire... L'Aspos è questa... Funziona così... Questi sono i prezi... Questi sono i difetti... Chi di voi è interessato... Questa è la mappa del paese... Questi sono i terreni... Cosa facciamo? Quindi c'è... Ancora non molti... Conoscono l'Aspos... Sì... A Sregna... Chi ha dei buoni? No... Non conosco... Non conosco... Non conosco... Non ho sentito dire... Ok... Ma non cosa... Cosa fa... A cosa serve? Lo sentiamo da solo... Non hai mezzi... Per pulire il castanetto... Se hai un'altra torre... Il maricello... Questo... Quello... Quell'altro... Non ce la fa... Quindi lì... È da mettere d'accordo... Più... Più persone... Per un territorio... È abbastanza vasto... Allora... Puoi pensare... Di fare un castanetto... Che funziona... Altrimenti... Non funzionerà male... Ma intendi... Sempre... Il castanetto dura... No? Sì... Una... 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 Due... Quelle che credi... Le motivazioni... Secondo le quali... Un proprietario... Dovrebbe conferire... All'asco... Dei castanetti... Eh... Quali sono... Quali sono le motivazioni... Che muovono la persona... Altrimenti di maschio... Altrimenti di castanetto... Innanzitutto... Viene... Il castanetto... Che adesso... Non è più... Il castanetto... Che è diventato... Quasi... Un bosco cero... Verrà ben pulito... Lui... Ha la possibilità... Di raccogliere... Delle castagne... Si decide... Quante... E come... E se può farlo... E... Ha il suo terreno... Diciamo... Che non è più... Una boscaglia... Perché... Per dire... In senso... A me... Messo in tasco... Potenzialmente... Non avrebbe neanche... Tanto interesse... Fino adesso... Se c'è... L'interesse... Del proprietario... A raccogliere... Dei castanetti... Allora... Però... Dalla parte... I castanetti... Che sono molto... Anche... Perché sono molto... Anche... Sono assolutamente... Interessanti... Dal loro punto di vista... Per avere... La faccia... Sì... Perché se sono... E comunque... Contribuiranno... Esatto... Io credo che... Se sono... Dirarati... I castani... Che adesso... È cresciuto di tutto... In mezzo... Altri tipi di... Di alberi... Se sono... Dirarati... I castani... Malati... Marci... E poi... Gli islamicati... E... Piattumati... Dei nuovi... Possibilmente... Che... Allora... Si riesce... Capisco... Giusto... Capisco... Che... Le superfici... Cioè... Non ci sono tanti... O... No... 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 e se le superfici a castagno conferite all'asco sono limitate cioè c'è la avevamo sospeso con l'attività di recupero che sia così diffuso quasi che diventa difficile l'attenzione perché gestire superfici limitate e tutto il resto non viene gestito per serie veramente di quelle più interessanti soprattutto per andare a fare dei progetti di recupero della cassa di ventura perché comunque la superfitte è molto ampia e tutto sommato anche le dependenze sono accessibili insomma non dappertutto però da insomma rispetto ad altre situazioni è una favorevole cioè nel senso io ho preso un buon 20% delle superfici castanili sul versante tra tra 3 serie e 2 vita insomma sia necessario. E quanto di questi superfici sono nel filo dell'asco? Allora se devo fare una stima delle superfici con caratteristiche castanili in questo momento in gestione dell'asco all'asco non so saremmo circa 5 etre che è una cosa del genere. Ma sono amogenee queste oppure? Sì omogenee sì diciamo se non sono omogenee nell'asco ma sono più impatti anche omogenee con gli altri progettivi tipo le terapicolti che le più svolge. Comunque adesso stiamo lavorando ad esempio per andare avanti a fare la recupero al pianino no? L'anno prossimo e tendremo a fare un impatticene che sono anche sempre che abbiamo già recuperato dove ci abbiamo piantato che è stata l'estate insomma no? Ci siamo piantati che è stata l'estate l'estate insomma. Quindi insomma c'è. Tanto perché comunque le superfici castanili sono fascinanti ed edificabili. Oltre ovviamente mettano un genio sicuramente e anche un indizionale. c'è anche lì il nostro prodigio castanili che si può essere eh. C'era lì vicino alla terra. C'è l'estate di castanili che c'è perché l'asco recupera e pulisce e restituisce un castaniletto che è pulibile perché adesso non è come più. Anche lì devo dire la verità c'è quando parte insomma il discorso che è un aiuto per l'operatore che c'è con i battuti con i piatti di castagno però c'è quelle piatti lì dietro perché quindi lì sopra ce ne stanno vendendo con i piatti di castagno eh. E' anche piuttosto male. Qui serve un territorio specifico che si vuole parlare di recuperare un territorio perché fino adesso potrebbe essere un territorio del castaniletto. Cioè fino adesso non c'è come riguarda del castaniletto. Allora lo c'è una nota di Francesco che non tutte le superfici a castagneto possono essere oggetto di recupero se ormai accattastato come bosco. Sì diciamo che in generale questo è corretto. 20 piante a ettaro è troppo poco. Sì sì buono ma si si possono tutte cose che si possono modificare ma il punto è questo che in generale dove catastalmente c'è scritto castaniletto sul tetto lì è tutto prato valore. Sì tutto il prato è tutta una prato. Non basta questo che vuoi dire. Certo. Certo. Devi isolare anche. Ma è a piantumare. E' 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 a piantumare. Certo. E' a piantumare. E' a piantumare. ric Eventi e che basta. C'è una che c'è tutta una parte quella che noi chiamiamo Ma è verina, ma è verina, la cosa sta dentro. Però tu qua, la zona che abbiamo chieduto adesso, il Mirdalino, va a essere una parte... La parte... La prima, la prima, che qui la prima è, la prima è un cassa, se no, per il cassa, e il cassa, il cassa, il cassa, ho un cassa, ho un cassa, ho un cassa. Stai finito, manca un po' quello che non si fa, e con quelli che erano lì bisogna fare l'idea chiara e partendo, che bisogna fare l'idea chiara di passi. Ma c'era il mio terzo flasco che ha puntato a pulire il giro ai suoi dedicati, che era una cosa primaria, perché ormai il Mosno stava a dare delle case. Però adesso si sta allargando, c'è l'allargarsi ha un po' il suolo, il castelletto non è l'allargamento. Diciamo che se sono arrivati dai passi, anche dal punto di vista corporativo, fa abbastanza importante in questa direzione. Perché, prima cosa, se ti ha vinto rispetto al fatto che è vero, bisogna evitare recuperarle vicino ai paesi, però possiamo ottimizzare queste risorse, anche, diciamo, più lontano dai paesi. E poi c'è un'altra modifica legislativa che è intervenuta proprio di recente, che si possono ottimizzare nelle risorse regionali, che possiamo imparare a usare, per intervenire sui castellini, sui castellini fondenti. E prima di sapere, bisogna trovare parole di finanziamento, perché la legge 10 finanzia... No, 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 certo, non c'è. E però, come posso dire, sono abbastanza convinto, dovrei verificare... No, ma sicuramente, perché comunque adesso, la difficoltà della legge 10, c'erano delle più prove di castanieri. Quindi, se volessimo metterci risorse di legge 10, per andare in corso, per andare a fare le citture di castanieri, devo verificare che sono sempre sicuro. Quindi, c'è questa mancante, o quantomeno non ancora sicurezza, di finanziamento di risorse, di risorse per la gestione di... anche che non sia tanto in passolo, praticamente. nella legge 10 che non ha avuto p quote di riflessione. Se è così... E' buon...? Ok. Francesco dice, la legge 10 finanzia anche i castagnetti, ma manca il regolamento applicativo per renderla effettiva. Sì, sì, vabbè, è vero, ma li portano fino a rimanere fino a andare dalla legge, nel senso, no, no, ma fai già applicativa, c'è, la legge è legge, anche se lo faccio con l'auto in prasca. Ma da quando va a prendere un po' di ora? Ma da poco tempo, perché se è... Ok, io ho fatto un po' di portare un po' più la legge sulla casta di configura, però devono avere prodotto un po' di rinnovativa adesso, quindi io ho fuori le robe. Diciamo che non dà per la recuperazione dei castellini, o una roba da incendere, o coccante, in cosa ti puoi essere? Sì, sì, è vero. Cioè, non è che è scavopio in raggiungere? Ma c'è dati, voi, lo so, fate, quanti rispondi di... E' appena, no, sono un po' di strada mia, sono un asti poli, privi. In contributi a Etero, non si lavora a pianca, in contributi a Etero, non si lavora a pianca. In contributi a Etero, non si può essere? non so adesso conoscere il costo per fare l'intervento di formatura medio sul castagno di 150 euro fare un lavoro di una calda di chiama di quanto costa penso che sia più la giornata di lavoro dipende di quanti cambiamenti no dipende di quanti cambiamenti a pianta a pianta ma quanti sono di lavoro e c'era un'opera per quanto riguarda la gestione il doceto pensavo un altro del genere poi ogni ora di lavoro guardi ho visto adesso ma vi dico che ci sta seguendo anche che ha seguito anche il nostro lavoro che fino a poco tempo fa adesso non vorrei dire il direttore del servizio lavorare al servizio più diversità e lui è stato insomma anche il direttore del servizio che regolava con l'attività di biologo che dell'area non c'è adesso lui mi spugge con il mio quale è quello che ci saluta ciao 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 Quindi potenzialmente ci sono i finanziamenti magari non sufficienti, cioè ci sono le persone realisticamente realizzabili questo tipo di attività o quantomeno organizzabili da parte dell'asco, no? Sì, bisogna mettersi lì, prendere un progetto, prendere due superfici. Perché sai, io credo che se dovessimo mirare, 5 etrar mi rimane fuori. C'è già una situazione di questo tipo, un'area omogenea? Cioè, se dovessimo prendere, dire, boh, adesso costruiamo un progetto di recupero su 5 etrar di costruire, di castagneto continuo. Ecco, lo fai tanto, no? Non sono 10 e 15 anni. Le particelle sono 15 e 15 anni. E ritornando a un'altra cosa che interessava, ritornando a me scorso, Pranti, 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 Pranti essenzialmente, il lavoro di Pranti, l'erba tagliare sui piedi, no? Che fine che utilizzo viene, che utilizzo? Mentre se ho 1930 o a poi, bene? No. Ora, non c'è più oppure di apprendere, se è il lavoro di questo tipo. Perché c'è, ma nel nostro studio, generale, ma ne no supervaliare per palia, il potere nel mio reposito, perché che c'è anche ilтобio e quella, la... E c'è la possibilità invece di utilizzare il profondum, avessicato, pieno... Oltre che i suoi, per altre aziende, Anrico, ne so, io ho fatto anch'io un po' di piedi, e ci sono aziende interessanti a questo? Comprano pure i piedi, per cui quello va dai posti, non tanto, non c'è proprio niente. Sì, ma anche lì bisognerebbe fare un lavoro di ricerca. Anche l'aspetto che dovrebbe fare, secondo me, era andare a cercare i posti dove vengono potendo legare questo interaccio, perché non è così semplice. Cioè, andate come l'anno scorso, lo cercavano tutti e lo dicevano quest'anno, lo so, stanno pieno, ce n'è in giro dappertutto, per cui io lì si piante di rimanere con i piedi più pieni. Sì, sì, è un problema. Se io non lo faccio, dovrebbe andare a cercare i tuoi, perché, dal fronte noi abbiamo, abbiamo un piedo che fino a dieci, quince anni fa era cercato di qualità. Spero, non lo facciamo i piedi più, però, sì. Non puoi vendare un prodotto per, forse venduta, no? Sì, adesso chiedo, mi dà più a Paolo, no? E Paolo, c'è qualche canale di finanziamento che magari può aiutarci a fare una caratterizzazione del fieno? Anche del biologo, per dire, per esempio. Perché vi sento un po' male. Quindi dicevi una caratterizzazione del fieno. Esatto. Magari anche se non all'inizio dell'agra fruttetta, per capire un po' le caratteristiche organolettiche, di queste caratteristiche che possono aiutare a cominciare a fare questa cosa. Allora, sul fieno si può fare, diciamo, un'analisi, chiamiamola fitosociologica, cioè capire di che specie è composto. Cioè, più che sul fieno, sul prato. Analisi organolettiche le fai sul prodotto, quindi sul prodotto trasformato. È difficile, diciamo, da un prato sapere esattamente che prodotto avrai. Quindi, se parliamo di latte, parliamo di formaggio. Adesso noi lo stiamo facendo, tra l'altro con alcuni caseifici, proprio in questi giorni, un'analisi del latte dopo aver alimentato, in questo caso parliamo di bovini, dopo aver alimentato dei bovini solo con fieno da prato stabile, quindi, diciamo, analogo a quello che possono essere i prati di Tribil, però di pianura. Insomma, più o meno le specie sono quelle, ecco. Proprio per vedere qual è la qualità organolettica e le caratteristiche chimico-fisiche del latte in confronto a un latte, diciamo, da supermercato. Quello lo stiamo facendo, però lo fai sul prodotto già trasformato, insomma. Cioè, o perlomeno sul latte. Lì, se l'alimentazione, bisogna capire se immagino sia più ovicaprina che non bovina. E c'è un interesse, perché... Stanno lavorando anche loro sul progetto, quindi il ragazzo è pieno. non ho capito. Non ho capito. Pronto. Scusami, se puoi rileggere di nuovo, Lucia, che... non c'è altro. Pierpaolo... Sì. No, levo il commento di Francesco Chiavai nella chat sul progetto della filiera del latte pieno e il pieno delle aree protette stanno lavorando insieme al pubblico. Sì, sì. Sì, avremo un incontro a breve anche con Slow Food proprio per mettere insieme tutte le varie iniziative. Quindi potenzialmente c'è un interesse, domanda, di un prodotto che potenzialmente dovrebbe avere determinate qualità costive, no? Sui territori ci sono aziende che potrebbero acquistarlo, che potrebbero utilizzarlo, che potrebbero essere interessate... Bisogna fare pubblicità, cioè bisogna, innanzitutto, creare una specie di, qua virgolette, di marchio della zona, no? Come il BGP o il Doter, su questo prodotto. Le faccio un esempio. Ci sono delle ditte in Tirolo che fanno abbattimento di alberi esattamente il giorno con le lune giuste e vendono legname ad architetti e a persone che vogliono un certo tipo di prodotto. Però è un mercato di nicchia per i territori o per chi vuole un certo tipo di prodotto. Però qua è notato che tanti boscaiori hanno battuto centinaia e centinaia di migliaia di quintali, di alberi, anche di un certo pregio, o sono andati, diciamo, così, bruciati. Non si pensa a lungo termine. Ok. Quindi, iniziamo la gestione del bosco, chiamiamosi il nostro castaggio, ok? C'è la gestione del bosco che però non viene gestita per valutarlo, no? Ecco. C'è tutto sul fuoco, per dire. E' sul fuoco. Ok. Anche sul bordo. La gestione è zero. La gestione è zero bosco, ok? Surtro. Volevo dire con questo che ha più furbi. Sì. Non è che è una bella pianta di olmo che puoi fare delle tavole o di castagno, puoi fare dei travi che sono anche ricercatissimi. Io, quattro anni fa, ho portato in segheria 200 quintali di castagno e Correlici mi aveva fatto quasi 100 travi e mi ha detto me le vendi, me le lasci a me, perché c'è richiesta, ma non c'è interesse da parte delle ditte locali. La richiesta c'è, non c'è interesse, non c'è capacità, non c'è un'operazione. Infatti, la visione è solo da... Sì, non l'avevo più, ma... Perché non mi pensavo? Il gioco è il bigliano. Il bigliano è il simbito. Ma è un'operazione del grande studio. Prenda la parte. L'ho capito, io. Però, se non ho il bigliano, non ho il bigliano. Sì. Allora, come hai messo? Mentre hai messo? Ma bisogna creare il bigliano della quantità. C'è un problema con i boschi che sono investiti e devi estrapolare la pianta buona e non costa fare il bigliano. No, ma quando tagli, allora ci sono le piante buone. Forse, non è che mi fanno la cerda da fuori. C'è le cose del tempo. Fanno fuori per le magazzine. Non è che i nostri boschi di planta, per la resta di mare lato, se ne sono fissi. Non è di pregio. Se ne sono fissi. Anche i castagni. Ci sono poche le aree nelle nostre comuni dove hai castagni grossati. Perché tu lo butti giù, ti sembra sia stagno che è un doligno scolato. Sì. Non è che sia... Si, certo. Potrebbe essere... Altri genitori. Allora, io, mio amico, adesso ho detto che lui è il pescaiolo, quando ho parlato con lui, appunto, per le scorse, non lo fa, almeno lui va, come lui, il 90%, se non il 100%, cioè il discorso immediato. I pescaioli tagliano e vengono la legna. Il castagno lo mischiano nella legna, non c'è problema. Hanno la legna subito, almeno io le dico che lui ha finito l'anno scorso. Ma, salvo qualche carico di un anno che si chiedevano, specifico, loro facevano un lavoro. Specifico, ci facciamo pagare, specifico, segniamo il lavoro. Perché, appunto, il castagno non è facile individuare quello. Quello adatto. Allora diventa un lavoro. E lui diceva, non mi conviene andare. A parte, eh, loro ci si faceva pagare. Faccio qui, qui, ovviamente, se non c'è la cultura, non c'è neanche la predispizione. Probabilmente fai fare quel tipo di lavorazione in questo momento. Cioè, mentre si può scrivere, hanno i loro valicelli, le loro storie, buttano giù e prendono la legna a quelle persone. Ok. Quindi, ok. Quindi non c'è... Ma... C'è che io, perché io sono molto una persona che si manca la visione, la... Si, la visione è piena che te l'ha prodotto. Però, voglio dire, la realtà... No, la realtà. Ah, si, sì. Però, dobbiamo partire da una realtà e da lì a fare la visione, secondo me. che è un po' ora. Chiedo questo in base a quelle che sono le caratteristiche dei boschi. No. Che cosa si può fare? 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 Fa una pulizia di incastaneto di cintra. Che cosa si può fare? Tirerà fuori, non so, duecento quintali di castagno buono da fare dei travi e aprire un canale, intanto pubblicizzare su internet e dire, guardate, noi vendiamo questo materiale, così e così. Dopo, da cosa a massa e cosa, se tu non li inizi mai, non succederà mai niente. Il fatto di gestire, se partici più ampio, quindi un maggior numero di piante, anche se non c'è questa varietà, non si riesce a selezionare un po' questa cosa, fare questa differenziazione merceologica, diciamo. E per il vostro legno dei vostri boschi, oltre al riscalamento al buccio, realisticamente cosa si potrebbe fare, realisticamente, in base anche alla qualità di quello che abbiamo già detto? C'è qualcos'altro che possiamo, che si può ipotizzare realisticamente? C'è anche pensare a quello che fanno altre imprese boschive, altri utilizzi, altre... Penso che sia molto difficile fare altro, anche perché è stato fatto anche degli esperimenti, dalla forestale a tempo di fare impianti di aventi, aventi, l'arici e cose del genere. E' uno solo l'altro, perché abbiamo un terreno e soprattutto dei giri d'aria che non permettono alle piante di essere poi sane e di buone per essere utilizzate per la lavorazione. Quindi anche l'accento delle mie piante abbiamo visto da fuori. Adesso ci stanno portando fuori perché, ad esempio, i l'arici e gli aventi sono tutti stordi all'interno, quindi quando vanno segati si rompono tutti. Quindi è legno quasi sicuramente da produzione. Eccetto le piante che dovrebbero essere strappolate, però un boscaiolo non va a fare quel lavoro, non va a fare una ricerca, una piatta qua, una lacca per noi. Non ha il tempo che si aveva una volta da fare questo. Una volta si stava attenti alle piante da usare per la lavorazione, oggi non c'è il tempo. Ma neanche considerando quello che diceva prima, cioè il fatto che l'asco può gestire superficie molto più ampio, c'è la possibilità di farsi l'accento? L'asco non può gestire l'asco. L'asco deve comunque da... Eh sì, è più chiaro, è più chiaro. Ok. Anche se la superficie più alta, la precarizzazione non è realistica oggi. Cioè, magari potrebbe... Eh. Guarda, noi, come altro, non tiriamo, eh? Ma vogliamo il ricorso del punto di... Sì. Poi guarda la candela. No, come possiamo prendere? Magari, io dico sempre... Prendiamo il tema della cassa di coltura, no? Ok. Prendiamo fuori anche dopo la finalità tecnica, come quello... Cioè, il secondo prego di Dante. Ma, tutto sommato, Michele, da qua a tre anni, fare un progetto di recuperare cinque etere di castare, la possiamo evitare, no? Eh. Direi che è realistica. Allora... Chi... Chi lavora sulle cose. Quello è... Quindi, noi abbiamo un'attività di volontariato. Chi fare cose, lo sai benissimo, lo fa, a tempo aperto, regalato, e tutto... E fino a un certo punto riesce a fare cose. Allora, dovremmo parlare adesso dell'organizzazione scena della... Per arrivare... Per riuscire a passare con i problemi. che se no... Se rimaniamo involontariato per accorrivo... Cioè, quando spendo un'ora nel mio tempo, diciamo, per l'altro, sono soddisfatto. Non c'è altro che quello di vedere un risultato per quello che ho detto, ma non si può andare avanti così nel... per fare cose più interessanti, più... di quello che abbiamo parlato fa adesso, per progettare, fare cose più grandi, e bisogna avere anche gli studenti che lo fanno. se lo deve fare l'asta. Se no, facciamo come adesso. Noi, diciamo, tagliateci il bosco, troviamo la ditta che taglia il bosco, però noi non sappiamo... A te, che si può scrivere... Ma non sappiamo neanche come lo taglia, come lo fanno... Non abbiamo tempo di andare a verificare sul bosco, se a parte... come pensavamo noi, come non... Tutte cose qua. Non siamo in grado di gestirle. Questo è come astro. Bene. Prima di venire a questi discorsi, che intanto noi comunque, almeno mentalmente, ce li stiamo segnando, ma è tutto registrato. C'è qualcos'altro di import... Cioè, problemi seri che riguardano Prati... Seri, diciamo seri. Prioritari, non sarà un problema, anzi, è la problema che riguarda la gestione di Prati, Pasco, di Castagneto, il Bosco. C'è qualcos'altro che secondo voi dobbiamo annotare? Cioè, non è che poi... O qui, o niente. chiediamo i compiti per casa, no? Non fa fuori. Eh, se no, Purtroppo sia, no? Perché se no passerei, passerei... Cioè, per cui la gestione dei prati sarebbe possibile trovare i canali di vendita del prodotto. Perché questo è un'altra cosa. Vendita del prodotto pieno. Pieno, in questo caso. Perché le mancanze... Le mancanze di canali di vendita che vengono puliti sono a piano indietro. per il foraggio. Quindi noi abbiamo la donna... Le mancanze di canali di vendita di questo del prodotto... Cioè, diventa difficile, perché uno dovrà, puoi aprire, puoi fare il multipieno, magari, facciamo così, supponere farlo. E se non riesci a venderlo, cade il fatto. Perché ci sono i fondi del PSR che aiutano un altro. Però non sono sufficienti. Quindi, la vendita del foraggio più quello che è l'aiuto da parte dello Stato, sicuramente è ancora di tenere finito il terreno. Però, per quanto tempo, se non si riesca a venderlo, io, per mia fortuna, diciamo, a parte che consumo una parte perché ho dei cavalli, però, il resto, come adesso, sono riuscito a vendere da un'azienda che lavora sul territorio e acquento. Altre aziende? Altre aziende? Acquirente? Inter. Ma, appunto questo, alla fine scopriamo che mancano le vacche per mangiare pieno. Cioè, le vacche mangiano più pieni, questo, anche le vacche mangiano più pieni. Ce ne sono anche poche. perché le vacche per convenienza perché è pieno dall'apporto energetico fino a un certo punto e mangia e faccia usciliati e mangiati. Il pieno è solo per fare l'immigrazione. Questo è un'immigrazione. Quindi, quelli che a fondo vale ci sono balloni di tutti i campi che stanno facendo inizialmente. Per quello, secondo me, si chiude il territorio proprio se incrementiamo questa benedetta zootermia. Cioè, se portiamo animali qua, gli facciamo mangiare il piede. Allora si chiude. E dopo, il problema è che adesso siamo in una situazione nella quale le vacche, per esempio, non rendono quasi niente economicamente perché il latte costa, sì, lo si vende a poco, la carne anche, insomma, uno che tiene un animale la vacca non guadagna abbastanza. Le vacche servono in questo momento come un mezzo per tenere puliti i prati. Non come era una volta. Una volta i prati servivano le vacche, adesso dobbiamo metterci in testa che bisogna rovesciare l'idea. Nel senso che la vacca, l'animale, la pecora serve a noi per mantenere i prati e il paesaggio. Adesso siamo in una situazione così. Quindi, per tenere la vacca bisogna che ci sia un aiuto. Io vedrei che il suggerimento, ma tra l'altro l'Europa ha già visto questo perché concede contributi maggiori alle aziende zootecniche. Anche le aziende che mantengono i prati se hanno vacche prendono di più perché è collegata alla faccenda. La vacca adesso non mereditizia bisogna per essere mantenuta di un contributo. Si spera che la situazione in un futuro magari lontano si capovolga di nuovo cioè che la vacca sia il cline e il prato sia il mezzo. Mario non so ci sono ci sono il Mario che lo si si non ci sono perché Mario può lavorare senza guadagnare tanto. se guadagno di più se uno ha tre vacche e gli danno un mila euro vacca all'anno e più tutto il resto quello di guadagno meglio sta meglio e venda un contadino anche quello. ma sono un'altra nuova aziende che si si gestita anche da una ragazza è una un io le ho lavorato e lavora con le buche non è che lavora con le buche quindi ci sono possibilità dove prendere dove viene secondo me possiamo puntare altre motivazioni uno deve per fare il contadino ci vogliono motivazioni qualcuno ha delle risorse diciamo spirituali per fare il contadino qualche altro ha bisogno delle risorse materiali cioè se mi chiede puoi fare il contadino domani ma lo sapete vedi poi in Germania avvettiamo che le stesse va il contadino la prospettiva non è quella di guadagnare come suo compagno per farlo informatico guadagna molto di meno e lavorerà molto di più cioè l'incentivo economico viene meno secondo me se ci fosse l'incentivo economico buono anche i giovani penserebbero a farlo così forse non avrebbe in Germania allora io direi ma non perché l'argomento è esaurito ma perché appunto poi ci sono i compiti per casa e visto che comunque era già stato trattato cerchiamo di dire qualcosa sugli aspetti organizzativi e gestionali dell'ASCO collegato a tutto quello che ci siamo detto alcune cose erano già e grazie i miei punti li ho già presi insomma in Italia ha detto questo no? si si ma bello in giovani che amano di gestire i tuoi strumenti no? io non assolutamente quello è il tuo tu non lo sai bene mi parla di santo eh 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 scusa Francesco se vuoi intervenire perché hai scritto se vuoi accendere anche il microfono eh in realtà mi piacerebbe ma non riesco a parlare perché sto poco bene per quello se non è presente eh comunque l'ultimo messaggio 15 euro al chilo la carne mista mi sembra che sia un una motivazione abbastanza interessante per le bestie la questione sulla zootecnia no? ehm questa è una roba eh una cosa sul legname sicuramente va rivisto tutto il sulla castanicoltura il la filiera no? cioè l'obiettivo è ripulire paghiamo i boscaioli per il servizio e quello che viene dopo ovviamente è la questione in rigolta produttiva paesaggistica sul legno da sul castagno da da costruzione devono essere dedicati dei castagnetti ad hoc delle aree ad hoc ma su tutto questo finché non possiamo parlare di gestione programmazione forestale e finessa stesso ok grazie Francesco perché sento che fa fatica no? grazie benissimo e rimangono anche le notte Lucia non c'è da vedere anche le notte va un po' benissimo si dicevo potremmo continuare ma insomma diciamo che imparare di capire no? che il quadro di insieme si è emerso e poi su alcuni dettagli ci sentiamo di nuovo sicuramente andiamo al discorso asco 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 che interno siete troppo che quelli che operativamente poi no? si occupano della parte gestionale organizzativa è giovane zero è giovane zero è giovane zero quindi se la situazione cresce avrà soltanto bisogno di persone che si dedicano esclusivamente all'asco quindi non più volontariato ma che non facciano a livello lavorativo cioè secondo me si volontariato va bene fino a gestione quindi va bene bravo va bene volontariato ok ma per il giovane ok ma ormai tutto basato sul volontariato insomma non ce ne fa più cioè cioè il volontariato è una grandissima cosa ma non possiamo almeno io la penso perché voglio dire non possiamo ambagliare il nostro gruppo sociale sul tipo di volontariato e soprattutto per il giovane per il giovane si riposiamo o tra gli altri per il futuro volontariato e quindi è il mitico che dice vado in Germania in Australia è già una grande cosa che qua a Sergio dico gli faccio un plavo e mi chiede veramente perché sì in realtà io so io faccio un certo senso volontariato a me cosa mi ha scritto soprattutto mi ha scritto perché c'è una bella tradizione di tenere sempre eccetera eccetera che con l'occasione è un campionato tempo ma io lo faccio anche se ho una fatica da matti però arrivo in quella schiena rotta ma la testa è buona allora il fuori il mio ginello e il cavallino che sono sulle giù per me è il maschio della roba ma voglio dire non possiamo pensare che il ragazzo il futuro anche il mondo della situazione che vada su queste robe così di un puro istinto sì ma perdono cioè secondo me si perdono io non so se ho parlato con lei o via ho detto per me l'aspetto è la più grande cosa il mio problema che vedo troppo sì bloccato sull'iniziativa così io la vedo prima non sono dentro l'ha dato e anche io non è che possa un po' personale ma cioè ci vuole un qualcosa uno stimolo che sia superiore al fatto affettivo al fatto cioè che possa diventare un'occasione di lavoro secondo te sì magari con una parte sull'unitaria ma anche sull'unitario dopo sicuramente sei più contento e tu lì sono bene per me ad aprire nella giornata anche il ragazzo già potendo appena una gestione dell'asco chiedo ci sono alcune attività dell'asco che sarebbe qualcuno che venissero svolte da altre persone in maniera professionale cioè ci sono alcune questioni che richiedono che richiedono una conoscenza una specializzazione se non sfida ma insomma elevata in modo tale che possa diventare effettivamente un lavoro per trovare i canali di comunicazione del prodotto e sarebbe una questa diventare effettiva da parte fuori e situare le persone che si montano di gestirla perché secondo dal mio punto di vista c'è la possibilità di andare avanti sul punto anche con quel po' che si sta passando adesso cioè aziende hanno ci sono c'è ancora lo spazio per quello che aziende ha che devono lavorare subito e tirando fuori anche uno stipendio non si può tirare quando lavorare nel pubblico c'è la possibilità il problema grosso è la possibilità del prodotto che poi si si che aziende ha pensato che aziende ha pensato insomma io adesso faccio rischio ben dietro in terreno e tutto a dietro però diciamo con con gli aiuti che arrivano dallo stato adesso e la vendita del prodotto si riesca a tirare un pubblico proprio che non lo si fa in francese in alto non si fa quindi questo e qualcosa d'altro in questo caso potrebbe essere bellissimo per la pietra del cassaglio c'è spazio per la vendita volete dire Valerio? si si ma io stavo un po' se ti alzi i piedi perchè magari mi sembra andare fuori non sono nell'asport però ho un po' di anni che seguo tutto il movimento dall'esterno e penso sempre più in territorio comunque stavano lidando questi degli argomenti di adesso da una parte vedo che c'è qualche giovane nelle valli a qualcuno anche potrebbe essere fuori da una percorso dell'arte agraria e tendenzialmente vedo che nelle valli c'è c'è scarsa capacità imprenditoriale per esempio secondo me c'è anche richiesta di prodotti in giro mi è capitato quindi qualcuno che mi dice ah sa c'è dove poi però nell'inferno come dicevi la manage cioè sapere allungare non gestire il territorio ma gestire le risorse e anche farsi pubblicità cioè da una parte avere il coraggio di di credito che personalmente mi manca da una parte poi c'è anche la capacità di farsi pubblicità la manage è brava anche nel di dire guardate c'è questo di portare l'attenzione un po' c'è su di sé questa forse una caratteristica che è un po' generale si capacità imprenditoriale quindi creare azienda reale come portare come fuori all'esterno quello che sia e quindi un po' di che si occupano questa è una impressione ma Matteo ti chiami Matteo tu si Matteo vado qui i piedi non so dico che mi hanno chiesto di che mi hanno chiesto le quali ora da portare l'udine ad esempio però è difficile trovare perché quella di formaggio ad esempio usava un formaggio da un futuro quindi però mi ha chiesto altri prodotti che siano di solito che vanno altri prodotti ad esempio basenti di conserva di vario tipo composte o qualsiasi cosa anche di vegetali però ma adesso non hanno prodotto piccolano diciamo credo però a me mi chiedo che sono altri prodotti alcuni comunque mi riscaldano a prescindere magari e altri a volte chiedendo ma non hanno avuto tutto l'anno comunque oggi mi è successo questa mattina ho visto i beni contatti di quello che c'è in quest'anno per esempio c'è un viaggio buono anche per aver fatto ok quindi ci starebbe un interesse d'esterno posso chiaramente certo se non so io conto i quattro la mia ragazza è lì ad esempio su promenso vestito e poi questo è tutto queste cose che ad esempio non si non conosco bene è per quanto riguarda i rapporti asco con i attenzione dei prodotti sono con posizione di anche di investire di di fronte a come dire a tutto passare ad a rischi che non non extra che non è extra come a livello di non chiedo da qui ai prossimi tre anni per poter garantire continuità dell'asco c'è a livello territoriale relazioni che devono essere curate in primis viene da pensare con le realtà comunali che hanno già manifestato interesse per poter aderire all'asco come amministrazioni ma anche poi come proprietari di terreni di quei territori comunali altre altre rapporti che sarebbe opportuno anche in questa crisi in questa fase di crescita diciamo no? che segue la crisi no? Marcellina cosa ci insegni? poco io oggi ascolto il paro devo capire e siccome è un ex mindset diciamo siccome io proprio sono una nostalgica del passato devo stare attenta a a a demolire l'entusiasmo perché vorrei sostenerlo ah sì vorrei sostenerlo ma per adesso devo ancora capire un po' diciamo il funzionamento cos'è cosa le proposte gli obiettivi che capisco sono tutti validi ecco quello che faccio fatica a trovare in questo contesto sono i percorsi virtuosi nel senso un'origine una esplicazione dell'attività e una conclusione finale soddisfacente diciamo cioè per adesso stiamo cercando ancora un filo conditore credo di aver capito che renda tutta questa attività fruttuosa gratificante e che abbia quella ricaduta veramente che merita che meriterebbe perché io veramente quando ho potuto ho cercato di dare un sostegno per quel che riguarda i pratichi più affettivo ma anche insomma perché mi sono sentita toccata in un punto dove sentimentalmente proprio non potevo accettare diciamo una un cambiamento d'uso di un territorio così pregiato però adesso veramente trovare il bambolo della matassa di questa situazione che si è creata in tempo ed è diventata problematica per venirne cuori in maniera gratificante per tutti si capiscono la difficoltà e io ammiro apprezzo gli interventi tutti quelli che si sentono dire di fare qualcosa per trovare questo figlio come tu per trovare io dovrò ragionare appunto su questa settimana perché sto ascoltando dovrò cercare lì insomma di vedere se riesco a a trovare questo figlio insomma che possa con tutto per fatto un po' le cose che abbiamo visto oggi sono molto parziali perché oggi comunque abbiamo detto ci concentriamo sui problemi quindi sui problemi però c'è molto altro c'è molto altro sì per trovare questo filo per arrivare alla meta finale come ci sono ulteriori passaggi perché lo scopo sarà quello di arrivare appunto cosa dovrebbe fare l'asco in un periodo di tempo per mentre qualcuno parlava di prodotti conservato nei vasetti allora mi è venuto in mente questi prodotti o si possono confezionare se si raccolgono o frutti o erbe si conservano oppure si coltivano negli orti e quindi se si coltivano negli orti c'è bisogno di un concine che sia un concine biologico allora mi è venuto in mente sì l'allevamento dei bovini come si faceva una volta che dava un etame che permetteva la concimazione dei campi la concimazione dei campi concimava anche le aree di nitro dei campi i frutti cioè tutti gli alberi da frutto fruttificavano cioè c'era un'armonia nella gestione territoriale che pur diciamo in un'economia di sussistenza però c'era un reddito familiare che permetteva alle famiglie di allevare la famiglia insomma di fare una vita non in disegna una vita ma insomma se allora quando questo filo c'era diciamo che omiva tutte le attività ci fosse stato un supporto dello Stato diciamo a sostegno di a integrazione di questa attività anche per riconoscere diciamo ehm la cura del territorio io penso che questa area non si sarebbe legradata come in realtà è successo perché ehm a un certo punto le opportunità in giro sono state maggiori le fabbriche insomma il lavoro dipendente ha dato un reddito più immediato e immaginare e con una fatica minore ma a quale costo? l'abbandono e via allora qui c'è davvero un lavoro di ricostruzione cercando sì non si può pensare di tornare indietro come si era allora ma trovare quel filo che possa dare speranze fino ad ora ma che possa dare anche dei prodotti di valore a chi vuole vivere ehm questo il coedito di questi prodotti di tipo biologico di cui abbiamo tanto bisogno quindi no alimenti intensivi cioè non perché sul nostro territorio purtroppo sono successe anche cose di questo genere è il problema è che tu non puoi confezionare un vasetto di marmellata e venderla se non hai la partita IVA e se non hai la stanza estrellata e non queste cose è un posto l'analisi allora se se a livello comunale o extra comunale diciamo eh visto gli attenzamenti piccoli eh i terrenzamenti si recuperano i terrenzamenti che sono coltivabili sono leggermente pianeggiati puoi fare la coltivazione di piccoli frutti e poi si fa un'unica esatto lavoratori non puoi appena lo conferirli e se io mi metto a fare la mia stanza ma c'è ma c'è ma c'è io non riesco a stare sul mercato perché io farò mettiamo un quintale di di marmellate di lamponi dopo il mio cliente mi dirà hai altri lampofino ho finito ma questo è improponibile diciamo associatamente in questo tipo dovrebbero garantire proprio questo cioè aiutare a mettersi insieme no? se lui parlava dei centri per dove conferire eccetera e lui sperimentiamo un fatto fieno lui ne fa altro si trova il canale e si dispare questo è un altro aspetto non si può pensare nemmeno noi una volta il fieno era perché perché il fieno l'allevamento del bestiame insomma l'economia è la ricchezza è solamente la ricchezza che ci stiamo avvicinando che ci stiamo avvicinando un po' ai tempi che ci siamo dati ecco dal punto di vista dei soci qui presenti o non presenti c'è qualche criticità che possiamo che dobbiamo rilevare per intervenire in modo da proseguire su percorsi virtuosi come se cosa non è detto che ci sia non solo lo chiedo se per sapere se si può intervenire anche a livello di soci attuali soci futuri ritenete che ci siano dei problemi ma forse l'unica cosa che insomma l'abbiamo imparata che anche facendo non è tanto una questione tra soci tra loro ma tra sui soci era imparare a gestire un po' meglio per carità dobbiamo fare a mettere un bene in pratica la gestione dei diritti disegnatico dove sono quali problemi non sono gravissime non sono insomontabili cioè ci mettiamo un momento in più a fare bene le cose però insomma le possibilità ci sono e comunque indirizzo è quello poi dall'altra parte devo dire la verità che io sono convinto che anche molti non so mi viene in mente le aree di indirizzo e piuttosto che diciamo quando leggendo ci sono le persone che hanno conferito l'asco è stata una bella spin off nel senso ha creato una bella crescita anche tra diciamo le persone che tra di loro non si parlano no? e quindi tutto sommato ci sono riconosciute in un'iniziativa che insomma ha fatto il super questa cosa qua penso che sia riconosciuta in maniera abbastanza dispersale quindi non credo che abbiamo innescato Michele problemi tra soci molto sommato anzi la cosa è la possibilità di riuscire a coinvolgere ancora altri proprietari per creare delle zone omogenee più grandi per dare a dire a un'azienda la possibilità di lavorare bene e non con tutta questa facilità diciamo che è sempre stato molto utile dobbiamo dire diciamo la verità pure che non è da tanto che sono tanti anni che non andiamo avanti in maniera sistematica ad acquisire le nuove parti c'è di feedback eh perché sì ok stanno arrivando vicino gli e per che restano pian piano ogni anno però non è che abbiamo fatto come all'inizio ma è la possibilità questa è una possibilità questa è una possibilità per creare un'azienda ok ok no questo è necessario questa cosa secondo l'opportuno ha una riflessione per esempio anche tra paesi e tra i paesi questo ho sentito presperghi con un'unità sembrano due territori che sono sotto asserventi all'automata io ho delle foto perché si vede presperghi e una un'unica un'unità adesso solo qualche tetto ci vede qualche tetto ci vede Io questa cosa l'ho detto, perché rotolo un po' quello che ci sono detto. Castagnetti, anche tra quelle serie che varano, il festival della zona, diciamoci del Potò, quella zona là che è in quella punta sotto, lì c'erano dei belli Castagnetti, un po' di Pulitano, no? Vescollo che fa quella zona là, no? Eh, sarebbe utile, però, in questo tema, di tutti i nostri versi, no? È utile, sia come sia, ma... Questo è il lavoro che fanno le clienti, come il Mario, diciamo, se ci sia degli oro, perché è il lavoro a spostare gli animali, ma io sto d'accordo, se io non posso usare la loro, se ci fosse un'autantica, come io sono la prima persona che dovrebbe essere incentivata, no? Per il lavoro che fanno, perché va già del lavoro, non è solo lavoro, ma quando mi parla con passione, forse è quello che ci precisava. E poi, come ho detto, una cosa, un po' un pino, no? Ma, appunto, quello che mi portò l'altro, a me, mi ha messo un po' di malinconia, a lui, mi hanno chiesto, c'è gente nelle valli che ha dei prodotti che si può portare vicino. Questo, non è come questo, però direi che là, forse, in futuro, un campuccino, che potrebbe fare da referente su queste domande qua, no? Perché quando lui dice, no, lui dice, eh, c'ho la rubana a questo, c'ho il vasetto dall'altra parte, non mi sarebbe conto. su cui dice, guarda, telefono in comune, a spreche, c'è Luca, e lui ti risolve il problema. Il telefono all'asco, che si è rinturato, che si è organizzato, c'è qualcuno che risolve. C'è qualcuno che prende il tuo canale, il tuo, e se non te lo risolve, talmente ti infida in qualche via e ti fa saltare fuori la funzione. Ecco, secondo me, in un scopo, quello che ha detto Bartelli, fieno che avanza, castagni che si possono portare in segheria anche sulla sega per fare pezzettine, potrebbe anche essere un qualcosa che in aggiunto a quello che fa, in aggiunto a quello che già stai facendo, potrebbe tornare utile, non domani mattina, o dai, fai un lopino, o suddistante. Dunque, altre cose che sono emerse in tanti elementi, come l'eredità, non lo so se condividiamo, vi lo vedremo. Io vorrei dire un po' di sintesi di queste cose che abbiamo racconto. Io vorrei dire un po' di parlare dell'ascol e dei soldi. I soldi compliscono l'ascol per recuperare, mantenere, e diciamo quasi tutti e proprio delegano tutta la responsabilità, tutto a quei quattro centri che sono diretti io, la gestione, poi ci interessa di più delle cose. Quindi questo è un aspetto abbastanza delicato, perché d'altra parte l'ascol, quando fa un intervento di recupero degli imprendi, eccetera, cioè cura l'aspetto così di trovare la misca ditta che fa, però pretenderebbe collaborazione, perché ce n'è abbastanza, però collaborazione da chi si trova poi la legna tagliata nel bosco, verificare i confini, seguire cosa fa la ditta. Ecco, questi aspetti qua, almeno noi come quelli che preparano le attività dell'ascol ci pensa che poi sono i singoli proprietari che... C'è un aspetto critico che... Certo, c'è l'intervento, una sorta di disinteresse, possiamo dire... Certo, però quando il lavoro è finito, forse c'è qualcosa... Che non va la ditta. ... che viene... Direi che la bascolata è sfruttata... Questo... Quindi ci dovrebbe essere magari più di coinvolgimento, magari... No, io direi... Ci vorrei che andate veramente facendo nel dettaglio tutto quello che serve fare. Per esempio, se taglia un bosco, bisogna andare a verificare i confini, cosa hanno tagliato, se hanno tagliato bene... E chi lo parla? Non lo faceva vedere su... Perché non c'era... Cioè, ci si affida al proprietario che verifica lui. Il proprietario... Dice il palazzo... Dice il palazzo... In realtà poi viene fuori che... Quella ditta non viene fatta perché... Abbiamo visto... Non so... Ramaglie... Aucchiate... Ma... Questi aspetti qua... Chi li destina? Perché veramente... Questa è una intercettazione che fa questo... Esatto... Però... Non la parte adesso... La persona deve andare, vuole il tempo, eccetera... Quindi... E' un aspetto... ... che abbiamo noi... Che lui è messo il palazzo... Oggi come oggi... Lui adesso... Lui adesso... Lui adesso... No... Tre secondi... Tre secondi... Tre secondi... Tre secondi... No... Allora... Ma... Era l'ultimo intervento che ha fatto... Il Presidente... Ma... Allora... Per me... L'Arto... Grandissima partita che ha fatto... L'Arto... Che arrivano fino a... Non vedevamo... Poco fa... Ma neanche... Ma... Mi sono... Mi sono... Metteremo... Come... Io... Esatto... Questo è un grande intervento... E... Tanti... Ha fatto... Un intervento... Un intervento... Che... Ho preparato... Io... Io... Non è che... Sono nativo dentro... Secondo me... Un passaggio... E' una mia roba... io ho sentito così e l'ho detto subito anche all'intervista, è proprio un altro passaggio perché è importante, lui dice chi fa chi non fa, cioè se si riuscisse, io dico adesso non so, dal Machina deve partire un po', da tutti noi, i soldi, quelli che vogliono, riuscire più a essere quei voti fra di noi, ma anche come una prospettiva di vedere, di creare questa filiera delle varie cose, che possono essere dall'aiuto del lavoro, dalla remunerazione che serve, ha una proposta di qualcuno di seguire e di dove andare a parare, ma perché io ho vissuto così molto individualmente, anche io ho preso il mio petto individualmente, faccio quella roba, la roba l'altro, ma in realtà io ho tantissimi voti, io dico anche tutti perché ho fatto un lavoro fino al massimo, neanche non ci si conoscerrebbe, però di noi, questo è un mio gruppo, adesso non voglio fare l'accusa a nessuno perché fa parte, voglio dire che ho notato questa roba che potrebbe essere utile se si riuscisse più a essere anche noi coi voti e poi assolutamente, non possiamo più pensare solo a partita da Tregna, ma chiaramente dovrebbe essere difeso dalle varie, dell'attigione, allora diventi una roba grande e allora trovi anche una forza giovanile, perché se guarda solo a Tregna fa i conti quanti ragazzi hanno fatto 20 anni, eccetera, cioè è tutto un discorso a tempo, ecco io trovo questa roba, mi sento anche io che non è che mi sono tanto attivato a questo discorso e anche quando ci troviamo tra di noi, io parlo perché è un fratello, un fratello, un fratello, ma se no tra di noi siamo con l'altro, ma se no tra di noi siamo su oggi, magari ci vediamo, non ne parliamo dell'aspo e siamo su oggi. Certe volte magari non sogniamo che quello è su, cioè dell'aspo. Io adottavo questa roba, adesso, sì, non è che voglio fare una critica. No, facciamo capire, perché ho pensato, ho pensato che magari da certi incontri, al di fuori di quello ufficiale, quando si trova al basso, devo fare il castane, magari possono nascere delle idee, delle cose che poi si possono sviluppare e portare il vino, perché lì ci vuole chiaramente, tu mi dici, ma non ci vuole dopo il tecnico che fa il progetto, ma parte dalla base. Ma è come, io sento, però, poi magari sono un sognatore. Siamo quasi tutti gli stessi. Allora, si chiara. Perché sì, per me l'individuale non parla nessuna parte. Questa è una mia opinione, di momentà sempre, però dopo bisogna vedere. devono esserci degli interessi che c'è magari un gruppo che condivide quegli interessi e si basa su quella roba che va al di fuori dell'organizzazione. Proprio già come la base. Noi siamo quelli e facciamo la febbra. Parliamo, vediamo la febbra e buttiamo fuori questo pezzo. Però, per me l'astro è stata una delle più grandi cose che si può fare dunque, oltre alla salvatà di Pezzanino, sempre ringrazierò. E veramente come, sì, l'associazione ha fatto, io vi dico, questa è una mia soggettiva, mi ha fatto una cosa grandissima. e quando la mia moglie ha fatto, vedo di nuovo, su sotto, i frati che era già la vita che veniva, abbiamo già fatto un po' di nuovo, poi non so, però si può fare tanta cosa. Ecco, e dopo sono gli altri facciali, no? Allora, sono messe tantissime riflessioni, notte, appunti, no? che noi riordineremo un po' in questi giorni, come già fatto, sia la volta che l'altro, quando ci siamo visti due anni fa, anche come già ha iniziato Luca a fare, tutto il materiale viene condiviso, quindi vi manderemo anche una sintesi di quello, una rielaborazione, se vediamo, vediamo perché c'è tanto è messo tanto, quindi lo condivideremo e vi scriveremo, ma già lo diciamo, no? Che quello che ho messo oggi non è scritto sulla pietra oggi per sempre ma in più, cioè, vedete, se ci sono elementi importantissimi che non sono stati trattati, non sono stati trattati a efficienza, c'è ancora tempo per intervenire, per aggiungere qualcosa, perché questa per noi rappresenterà la base per ragionare su se i problemi sono questi, cosa sarebbe opportuno fare per trovare una soluzione e anche attuare quella soluzione, ma su cui di questo parleremo prossimamente. Quindi per adesso rimaniamo su questo piano, no? Di analisi di questa fotografia, cosa funziona, cosa non funziona, non tutto perché, ecco, a tre anni con miracoli non fa neanche Luca che li ha già fatti, a tre anni perché ne faccio tanti altri, no? Ecco, ne ho già fatti. Sì, e... Però speriamo che le faccio ancora con tu, ecco, ecco, io ho avuto un attimo, quindi ho avuto, ho avuto un attimo. Sentate, li abbiamo che ti faccio un pirato dentro il prossimo anno, quindi in giugno che è incontrable, dopo vedremo... Ecco, quindi io direi che se non c'è altro, quindi in giugno possiamo lasciare una cosa, che adesso dovremmo avanti che non lavoro un po' più con il gruppo di strada per fare una sintesi, e se non ricordo male il 22 di novembre... Il prossimo incontro, sì, anche io ne lo devo vedere, comunque per un mese e cinque, esattamente tra quattro settimane. E' il 29, aiutatemi. 22, sì. Ok. Il prossimo incontro in plenaria sarà il 22 di novembre, dove praticamente sempre qua, dove un po' analizzeremo, perché comunque adesso noi ci muoveremo a fare una proposta proprio di sviluppo delle azioni anche da comitare. Ci saranno comunque dei tecnici sotto che ci metteranno anche, diciamo, delle ipotesi temporali, piuttosto che di budget economico. Qui la condivideremo nella sessione plenaria il 22 di novembre, perché comunque ci interessa capire se la roba che abbiamo messo giù sta in piedi o non sta in piedi, anche da opinioni aperte. Cercheremo ovviamente magari di condividere il materiale e il prodotto prima, ma oltre, se non altro, un po' di giorni prima, manderemo un'email con queste qualche cosa intanto adesso. E poi un passo successivo sarà per effettuare quel lavoro lì che, diciamo, dopo aver avuto il feedback, il scopro dalla plenaria, l'idea è comunque di aggiustare quel poco che ci sarà da aggiustare, per poi, insomma, presentare il lavoro concluso a gente. Questo qua, diciamo, la tempistica che... Ci siamo da aggiornati. Ovviamente, insomma, non è una cosa scontata, ma se qualcuno ha qualche riflessione ulteriore aspetto a quella che, insomma, sono commesse oggi, mandatevi pure i messaggini, e, insomma, vi ho proprio il giro tutta la Lucia. Detto questo, vi ringrazio per la presenza, per oggi, e, grazie. 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 Buon rilegno a casa.